La violenza sulle donne ha molte sfaccettature, fisica, psicologica ed economica. In provincia sono 150 coloro che ogni anno si rivolgono a Belluno Donna per avere un supporto. A sostegno dell'attività svolta, l'Associazione La Forza delle Tose ha donato 7.000 euro. Un regalo che avviene in un momento economicamente drammatico per tutti, ma a maggior ragione per donne vittime di violenza che non hanno sostegni economici di nessun genere. Abbiamo capito che l'indipendenza economica aiuta anche nel percorso di uscita dalla violenza e quindi ci operiamo in modo da aiutare queste donne. e quindi il regalo che ci viene fatto oggi andrà a rimpinguare quel salvadanaio che noi abbiamo da parte per aiutare economicamente le donne. Siamo un'associazione nata nel 2003 che attualmente conta 40 socie, tra cui operatrici e volontarie. Le donne che abbiamo seguito fino al 31 dicembre 2019, perché i dati quelli abbiamo, sono state 1.073. Una donna ogni due giorni e mezzo, una donna nuova, chiede aiuto al Centro Antiviolenza Belluno Donna. Dopo i 50.000 euro donati alla regione sul fondo Covid, le Tose di Zaia hanno avviato un'altra raccolta fondi da destinare alle associazioni regionali che aiutano le donne vittime di violenza. Attualmente con la vendita delle magliette delle nostre mascherine abbiamo raccolto all'incirca 45.000 euro e abbiamo deciso di dividerle per le province del Veneto ai centri antiviolenza. La prima donazione è stata fatta a Vicenza e orgogliose questa volta a Belluno. Questi soldi con la vendita delle magliette con il logo La Forza delle Tose e la scritta Le Tose di Zaia e le mascherine. Attualmente sono circa 4.300 i capi venduti e ringraziamo tutti e anzi incentivo a comprare e ad acquistare ancora le magliette sul sito Carine di Conegliano.